È quasi sera e la piccola Jessie, di 11 anni, dopo aver giocato tutto il giorno e tutto il pomeriggio in cortile, entra in casa perché è ora di cena. La mamma ha già apparecchiato la tavola per lei, quindi per Jessie, e per la figlia più piccola di 8 anni, Maddie. Jessie entra in cucina, ma entra da sola. Maddie non è lì con lei. Ma allora, dov'è? Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E bene sì, anche la storia di cui voglio parlarvi oggi si svolge in Florida. Per essere più originali però cambiamo città, infatti ci spostiamo a Jacksonville. E questa volta finalmente non è la tipica cittadina con mille abitanti che rappresenta lo scenario tipico delle storie che vi ho raccontato le scorse volte. Jacksonville infatti conta ben quasi un milione di abitanti, praticamente una metropoli. Prima di cominciare però vi voglio ricordare che su Pampling, trovate il link in descrizione, trovate le magliette che indosso nei video, specialmente questa, che è praticamente la maglietta del canale ufficiale ormai, perché è il venerdì con Jason. Venerdì escono i miei video, perfetto. Vi ricordo che una volta che avete preso qualcosa sul sito, dovete inserire il codice Andrew se volete ricevere anche delle calze a vostra scelta totalmente in omaggio. Detto questo, iniziamo. È il novembre del 1998, ci troviamo in un quartiere di Jacksonville chiamato Lakewood. Dalle immagini che troviamo su Google il posto sembra un grazioso borgo immerso nella natura e circondato da laghi e corsi d'acqua. Essendo un luogo molto tranquillo, era ed è tuttora abitato da numerose famiglie con bambini. È proprio qui che vive Maddie Clifton, di otto anni. Maddie è la più piccola di due sorelle che ovviamente vivono con i loro genitori. Lei in particolare è molto sportiva e passa tutto il tempo libero fuori a giocare. Essendo Lakewood un luogo molto tranquillo, non è inusuale vedere la strada animata da decine e decine di bambini che giocano fuori all'aria aperta. Ovviamente è sempre sotto la supervisione e la vigilanza di un genitore. Maddie fa parte di quella decina di bambini che adora tornare a casa con i pantaloni macchiati di verde e le mani sporche di terra. Il 3 novembre 1998, Maddie e sua sorella maggiore, Jessie, che appunto ha 11 anni, stanno giocando fuori nel cortile mentre la loro mamma, Sheila, sta preparando la cena. Sheila, nome del mio gatto. È lì. Non lo vedete. Non penso si farà vedere oggi. Sembro offesa. Comunque, diciamo che questa è la tipica situazione che ognuno di noi ha vissuto nella propria infanzia, no? Cioè, spero che l'abbiate vissuta anche voi. Comunque, non appena la cena è pronta, la donna chiama le bambine a tavola. Jessie entra in casa e poi si dirige in cucina. Dietro di lei però doveva esserci sua sorella, ma non c'è nessuno. La mamma le chiede subito dove fosse Maddie, ma lei risponde che non erano insieme. Sheila era sicura che poco prima le due stessero giocando fuori insieme, però per non preoccuparsi pensa che forse Maddie era entrata in casa per suonare il pianoforte o per ballare un po', che erano le due attività che amava di più fare, oltre a star fuori a giocare con gli altri bambini. La donna quindi sale di sopra a chiamare la figlia, ma nessuno risponde. E in camera sua non c'è nessuno. Il panico inizia a farsi strada nella mente di Sheila, che esce di casa e fa il giro della proprietà chiamando Maddie a squarciagola. Poi si dirige in strada e decide di fare qualche passo nel quartiere per cercarla. Ormai è diventato buio, ricordate che siamo al 3 novembre e sono quasi le 19. Come era facilmente immaginabile, Sheila perde velocemente il senno. È fuori di sé, quindi non perde un minuto di più e chiama la polizia. Si sentiva che qualcosa non andava perché non era da Maddie a allontanarsi da sola e non tornare a casa specialmente senza avvisare. Tenete a mente che il padre in tutto ciò era ancora a lavoro, quindi Sheila si ritrova ad affrontare la scomparsa di sua figlia da sola. Nella chiamata al 911 si sente la donna andare di porta in porta nel suo quartiere e bussare ai vicini chiedendo se avessero visto per caso Maddie e si sente proprio che era davvero disperata. Ad un certo punto arriva a casa del suo vicino di nome Steven Phillips, che era appena tornato da lavoro. Lui risponde subito di non aver visto Maddie, ma le dice che suo figlio Joshua e sua moglie Melissa erano in casa tutto il giorno, erano stati tutto il giorno dentro l'abitazione, quindi magari potevano sapere qualcosa. Sheila quindi va subito da loro e chiede se avessero visto la bambina o sapessero per caso dove fosse. Ma la famiglia Phillips è quella che esce di meno nel quartiere, erano persone che socializzavano poco, erano soliti stare sempre in casa. Quindi Sheila non si sorprende quando le dicono di non aver visto nulla. Joshua però, il figlio 14enne, le dice comunque che qualche ora prima, dalla finestra della sua camera, aveva visto Maddie camminare per strada. Ovviamente a questo punto si comincia a pensare all'ipotesi che Maddie fosse stata rapita. Steven così si munisce di una torcia e propone a Sheila di cercare la bimba mentre aspettavano la polizia. In quel quartiere viveva anche un signore di nome Larry, ed era abbastanza noto nella zona, anche perché viveva lì da circa 30 anni. Era conosciuto per essere il classico strambo del quartiere, un tizio molto solitario sulle sue. Ecco, non appena Larry scopre che Maddie è scomparsa, si precipita da Sheila e le dice di aver visto la bimba, cosa piuttosto ambigua perché questo signore era anche famoso nel quartiere per essere un giocatore di golf, ma un giocatore di golf che era solito invitare i bambini del quartiere a giocare con lui. Ecco, l'uomo dice a Sheila che Maddie era con lui un paio di ore prima della scomparsa, ma che ad un certo punto è tornata a casa per recuperare altre palline da golf. Larry le dice che quando non l'ha vista tornare non si è allarmato, perché ha pensato che lei le avesse detto di restare a casa, fare i compiti o chissà cosa. Questa informazione ovviamente risulta subito sospetta sia a Sheila che alla polizia che lo mette immediatamente sulla lista dei sospettati. Analizzando la sua fedina penale poi si scopre che Larry aveva già avuto guai con le forze dell'ordine, anche se non sappiamo di che tipo. Ma vabbè, la cosa strana era che si trattava dell'ultima persona ad aver visto la bimba, ed era appunto una persona un po' losca. Larry viene quindi portato alla centrale di polizia e interrogato, ma viene rilasciato solo dopo qualche ora per assenza di prove. Nel frattempo tutto l'isolato si mette alla ricerca disperata di Maddy. Vengono formati diversi gruppi di volontari per setacciare l'intera zona, e bisogna tenere in conto che la cittadina è circondata da foreste e spazi aperti, per cui tutto quel luogo diventa piuttosto difficile da setacciare, soprattutto con il buio. Nonostante questo le ricerche proseguono per l'intera notte, ma all'alba non c'è ancora alcuna traccia di Maddy. Passano quindi meno di 12 ore, ma la faccia della bimba è già ovunque, sui volantini per strada, sul giornale, in televisione e su alcune vetrine di negozi in giro per Jacksonville. La notizia della scomparsa si espande in fretta, e dal piccolo quartiere in cui vivevano Maddy e la sua famiglia, la voce arriva all'intera città. Centinaia di persone si immobilitano per trovarla, e tutti sono sconcertati per le circostanze strane in cui è sparita. Proprio perché non si trovava in una zona deserta o isolata, ma letteralmente nella strada di una città molto popolata. Le centinaia di persone che aiutavano quelle ricerche si trasformano rapidamente in migliaia. Si stima infatti che fossero almeno 4.000 i volontari. Tutta Jacksonville praticamente è alla ricerca della piccola Maddy. Una ricerca veramente disperata. Passa una settimana, arriva il 10 novembre 1998, ma le ricerche sono ancora in corso e la tensione sale ogni secondo di più. La polizia ha messo a suo quadro tutto il quartiere con la speranza di trovare la piccola. In particolare, è stata perquisita varie volte la casa della famiglia Phillips per diversi motivi. In primis, i membri vivevano proprio di fronte alla casa di Sheila, e in secondo luogo Joshua, il primo giorno, il ragazzo, il figlio della famiglia Phillips, aveva detto di aver visto Maddy camminare per strada, il che lo rendeva a tutti gli effetti uno degli ultimi testimoni ad averla vista prima che scomparisse. Bene, il 10 novembre la casa dei vicini viene perquisita per la terza volta. Così, nel pomeriggio, Melissa decide di fare le pulizie dopo il caos creato dalla perquisizione. In particolare, la stanza del figlio Joshua è un vero disastro. La donna aveva già detto al figlio di riordinare e pulire, ma sapete come sono gli adolescenti, no? Quella settimana, inoltre, il ragazzo era stato particolarmente silenzioso, a partire dalla scomparsa di Maddy. Sembrava quasi preoccupato. Pensare che nel quartiere si nascondeva un potenziale rapitore di bambini sicuramente non metteva a proprio agio i residenti. Dicevo comunque, Melissa entra nella stanza di Joshua e lo scenario è tipico di una qualsiasi camera di un ragazzo adolescente. Calzini sporchi buttati ovunque, resti di cibo sempre buttati ovunque, tazzine sporche, è un casino generale. La prima cosa che nota la donna è che c'è un odore davvero terribile nella stanza, il che però non risulta anormale per lei. Joshua aveva due uccellini e un cane, quindi sommando il tutto ci stava che nella stanza ci fosse un odore molto sgradevole. La cosa che appare subito strana però è che la puzza sembrava essere peggiorata negli ultimi giorni. E anzi, sembrava peggiorata notevolmente dall'ultima volta che era entrata. Infatti il tonfo ormai arrivava anche in corridoio, con la porta chiusa. Questo è stato proprio uno dei motivi che ha spinto Melissa ad entrare di nuovo nella stanza del figlio per provare a riordinare un po' il casino che c'era. Ai piedi del letto si era formata una piccola pozza d'acqua. Tenete a mente che negli anni 90 i letti ad acqua erano ancora molto popolari, erano ritenuti comodi e il ragazzo aveva proprio un materasso ad acqua. Melissa pensa immediatamente che l'odore sgradevole arrivasse proprio da lì. Chissà da quanto tempo Joshua non puliva l'acqua perché bisogna pulirla. Ormai sarà stata melmosa, stagnante. La donna quindi si inginocchia a terra e dà un'occhiata veloce sotto al letto per vedere se ci fosse magari qualche buco nel materasso o cose del genere. E la prima cosa che nota è un calzino incastrato all'interno del telaio del letto, probabilmente che era scivolato durante la notte. Melissa così lo afferra e inizia a tirare, ma non riesce ad estrarlo perché sembrava quasi che inglobasse qualcosa. Mentre la donna cerca di tirare più forte, il pannello laterale del letto si stacca e cade a terra, rivelando così che il calzino incastrato in realtà era su un piedino. Melissa rimane immobile, sgrana gli occhi e lo shock pervade il suo corpo. Il piedino che aveva toccato apparteneva alla piccola Maddy. La donna va fuori di testa, prende il telefono e prova prima a chiamare suo marito Steven, ma dato che era lavoro risponde direttamente alla segreteria, così gli lascia diversi messaggi sulla segreteria in cui non nasconde assolutamente il panico che la stava sovrastando e chiede al marito di richiamarla immediatamente. Il panico si trasforma presto in isteria totale. La donna corre fuori di casa. Nel quartiere c'erano diverse pattuglie che ormai rimanevano lì giorno e notte per cercare la povera Maddy scomparsa. Melissa così si dirige verso un ufficiale, ma il suo stato di shock era così forte che non riesce neanche a formulare una frase e nell'agitazione generale chiede al poliziotto di seguirla fino a casa. Non riesce proprio a formulare una frase, non riesce a dire nulla. Quando arrivano lì, la donna dice agli agenti di guardare sotto il letto di Joshua. E così scoprono anche loro il corpo. Viene presto confermato che era proprio quello di Maddy. La sua mano era ancora stretta intorno al telaio, il che fa pensare che fosse ancora viva quando è stata messa sotto al letto d'acqua. Alla bimba inoltre mancavano sia i pantaloni, sia la biancheria intima. Possibile che la polizia non avesse trovato niente dopo le tre perquisizioni. Com'è possibile che il forte odore non avesse insospettito nessuno? Questo è davvero molto strano. E sapete cos'altro è decisamente strano e inquietante? Il fatto che Joshua avesse dormito per una settimana intera sopra il corpo della piccola Maddy. Quando l'intera cittadina si stava mobilitando giorno e notte per cercarla. A questo punto la casa dei Phillips si ritrova ovviamente sotto i riflettori. La polizia circonda l'intera abitazione con il nostro e diversi curiosi si avvicinano per vedere cos'era successo. Sheila intanto, la madre di Maddy, che viveva dall'altra parte della strada, si allarma tantissimo. E pensa subito che fosse stato trovato qualcosa. Ma non fa in tempo ad uscire di casa che due agenti vengono a suonare alla sua porta per riferirle l'orribile notizia. Maddy, sua figlia di otto anni, scomparsa da una settimana, è morta. La speranza di trovare la piccola ancora viva lascia subito posto a un dolore e ad una sofferenza inimmaginabile. I genitori di Maddy sono a pezzi. E nello sconforto generale non riescono neanche a trovare un modo per dare la notizia a Jessie, la figlia di undici anni, nonché sorella maggiore di Maddy. Penso che qualsiasi genitore in questa situazione farebbe di tutto per non creare ulteriore dolore all'altro figlio. E quindi i due pensano che il modo migliore per comunicarlo a Jessie fosse dirglielo fuori dal contesto di casa. Per cui il giorno dopo decidono di portarla fuori a fare colazione insieme, durante la quale le dicono che la sua sorellina Maddy non c'era più. Jessie in realtà non sembra capire appieno quello che era successo. Rimane spaesata e continua a ripetere che l'avrebbero trovata e che sarebbe tornata a casa. Elaborare un trauma del genere a quell'età penso richieda molto tempo. L'intera cittadina comunque è devastata dalla scoperta del corpo di Maddy. E specialmente dal modo in cui è stato ritrovato. Quando i telegiornali annunciano la morte della bambina, nessuno vuole crederci. Erano passati ormai otto giorni dalla sua scomparsa e per ognuno di questi lunghi giorni, chiunque aveva davvero sperato che Maddy sarebbe stata trovata sana e salva. La terribile notizia crea parecchio scalpore, soprattutto nel quartiere dei Clifton, in cui tutti cominciano a non sentirsi più al sicuro. C'è stato anche uno speciale in tv in cui sono stati intervistati i genitori di Maddy e anche quelli di Joshua. Ed è stato anche intervistato lo stesso Joshua dal carcere. Come era facile immaginare, la stampa in quel periodo si concentra intorno ad un'unica domanda. Perché un ragazzino avrebbe dovuto uccidere una bambina? Come erano andate davvero le cose? I giornalisti, così come i genitori di Joshua e la polizia, non pensano ad altro se non a capire il perché di questo orribile gesto. I tg locali si mettono a intervistare persone che conoscevano Joshua e le domande più ricorrenti erano proprio riguardo a lui, che tipo fosse, cosa gli piacesse fare, cose del genere. E le risposte erano praticamente tutte uguali, ovvero che era un ragazzo tranquillo. Gli piaceva leggere e passava la maggior parte del tempo libero a casa, al computer. Aveva anche parecchi amici a scuola e non sembrava avere problemi con nessuno. In quel periodo aveva 14 anni e frequentava il primo anno di scuole superiori con una media del C. Quindi uno studente nella media, come fosse il 6 qui da noi. Melissa, sua madre, dirà che Joshua era un ragazzo gentile e amante degli animali, che amava trascorrere del tempo con i suoi cani. In sostanza il ragazzo non sembrava mostrare alcun segno di sociopatia o di qualche disturbo mentale ed era a detta di tutti un ragazzo molto dolce. Quando tutto viene a galla, la polizia si presenta direttamente al liceo di Joshua per arrestarlo. Il ragazzo viene quindi portato via sotto gli sguardi increduli degli altri studenti, degli insegnanti e del preside. Durante il primo interrogatorio, ovviamente, confessa tutto. Voglio dire, non è che ci fosse un'altra nativa. Alla fine il corpo di Maddie era stato trovato letteralmente sotto il suo letto. Dall'interrogatorio viene fuori che la vita privata del giovane era abbastanza complessa. Non se la passava proprio bene. Infatti, il motivo per cui lui e sua madre non uscivano mai di casa era piuttosto triste. A quanto pare, Stephen, il padre di Joshua, non permetteva loro di uscire. Oltre a ciò, si è scoperto anche che l'uomo era un maniaco del controllo, nonché un alcolista aggressivo con qualche problema di droga. Stephen era un uomo molto violento, non solo verbalmente, ma anche fisicamente. E sfogava la sua rabbia e la sua violenza, appunto, sia su suo figlio Joshua che su sua moglie Melissa. Mentre era lavoro, non gli piaceva che gli altri membri della famiglia uscissero di casa e non gli piaceva che magari i amici del figlio entrassero in casa. E questo è uno dei motivi per cui era molto raro vedere la famiglia Phillips in giro per il quartiere o in generale parlare con altre persone. Stephen cercava in tutti i modi di isolare la sua stessa famiglia. Oltre a ciò, pare che l'uomo odiasse le bambine. Lo aveva confessato a Melissa più di una volta e spesso ripeteva di non volere che suo figlio Joshua giocasse con le bimbe del quartiere. È ovvio quindi che il ragazzo, dopo scuola, non restasse fuori a giocare con nessuno, ma tornasse direttamente a casa e passasse tutto il tempo con i suoi animali domestici, che probabilmente riteneva i suoi migliori amici. L'unica compagnia con cui giocare. Abbastanza triste. Bisogna aggiungere che la famiglia Phillips non si era trasferita nel quartiere di Lakewood da molto tempo. Infatti erano praticamente dei nuovi vicini, dei nuovi arrivati. Si scopre infatti che Stephen aveva già altri due figli maschi avuti da un precedente matrimonio. I due ragazzi avevano dieci anni in più rispetto a Joshua, ma nonostante l'importante differenza d'età, i tre sono sempre andati molto d'accordo. E considerando che Joshua non poteva passare il tempo libero con i suoi coetanei, probabilmente vedeva i fratellastri come i suoi unici amici, quindi i migliori amici. Poi però da un giorno all'altro, Stephen ha deciso di portare via Melissa e Joshua trasferendosi in un'altra città. Negli anni successivi all'omicidio di Maddy, i due fratellastri di Joshua hanno raccontato di come il trasferimento fosse accaduto in pochissimo tempo e senza preavviso. Hanno anche raccontato di come avessero implorato il padre di non andarsene, ma non c'era stato verso di fargli cambiare idea. Joshua poi ovviamente non si era mai opposto a questa decisione, perché sapeva benissimo che andare contro il padre significava pagarne le conseguenze. Ma torniamo un attimo all'interrogatorio. Dopo aver sentito le sue dichiarazioni, nella testa degli investigatori era chiaro che ci fosse qualcosa di molto, molto strano. Il ragazzo infatti, durante il primo interrogatorio, ha raccontato che verso le 17 di quella sera aveva sentito qualcuno da fuori chiamare il suo nome, e la voce era proprio quella di Maddy Clifton. Secondo le ricostruzioni, i due avrebbero chiacchierato dalla finestra della camera del ragazzo e lei lo avrebbe implorato di uscire per giocare con lei. All'inizio lui le ha detto che non poteva perché aveva delle cose da fare, ma Maddy ha insistito e non sembrava avere intenzione di mollare la presa. Ha continuato a chiedere a Joshua di uscire a giocare con lei, insistentemente, continuamente, a ripetizione, e così il ragazzo ha deciso di infrangere le regole di suo padre e di uscire. L'adolescente è quindi uscito dalla sua abitazione ed è andato in cortile a giocare con la bambina di otto anni. Da questo momento però le cose si fanno sospette e la ricostruzione non sembra filare liscia. Il ragazzo infatti ha raccontato che i due erano nel cortile sul retro della casa di Joshua quando hanno cominciato a giocare a baseball. Io non sono un esperto di baseball ma penso che ognuno di noi più o meno sappia in cosa consiste, no? Ecco, toccava a Joshua colpire la palla con la mazza e a circa 5 metri da lui c'era Maddy con il guantone che aspettava di afferrarla, la palla. Joshua quindi ha colpito la palla con la mazza ma l'ha fatto con una tale forza e con una tale precisione che la palla ha colpito la piccola in faccia facendola sanguinare. Dopodiché Maddy si è messo a piangere urlando a scorciagola. Ed è in questo momento che Joshua ha deciso di fare le scelte sbagliate, probabilmente spinto dalla paura. Nella sua testa avorticava un solo ed unico pensiero, quasi in maniera ossessiva. Ovvero la rabbia di suo padre quando avrebbe scoperto che un suo figlio gli aveva disubbidito ed era uscito a giocare con la vicina. L'unico obiettivo di Joshua in quel momento era far smettere di piangere Maddy ma non voleva e non poteva chiedere aiuto proprio perché temeva di farsi vedere con lei che oltretutto aveva una ferita alla testa. La bimba intanto si trovava a terra che continuava a piangere dal dolore ma il ragazzo ha deciso di prenderla di peso e di spostarla da lì per evitare di essere visti. L'unica cosa che doveva fare in quel momento era trascinarla fuori dal cortile così che il padre non avrebbe mai scoperto che si trovava lì con lui. Così l'ha trascinata per tutto il cortile e secondo le dichiarazioni del ragazzo è in questo modo che devono essersi sfilati i pantaloni di Maddy trascinandola appunto lungo il cortile. Tutto quello che vi ho detto e che vi sto dicendo sono sempre le dichiarazioni di Joshua al primo interrogatorio, eh, tenetelo a mente. Comunque, racconta il ragazzo, mentre la trascinava Maddy continuava a piangere, quasi a urlare dal dolore soprattutto perché Joshua non la stava aiutando non stava facendo nulla per lei per alleviare il dolore o per, insomma, farla star meglio in qualche modo. Il ragazzo era nel panico più totale suo padre sarebbe potuto arrivare a momenti e se avesse visto la scena di suo figlio che stava trascinando una bambina insanguinata fuori dal suo cortile beh, sarebbe stato punito amaramente. Joshua, probabilmente preso dall'esasperazione quindi ha preso l'ammazzata baseball e ha cominciato a colpire Maddy a ripetizione. L'ha colpita la testa più volte fino a quando lei non ha iniziato a calmarsi probabilmente svenuta a causa delle botte Maddy, incosciente, non emetteva più alcun rumore e quindi Joshua è riuscito a trascinarla con più facilità in casa fino a raggiungere la sua cameretta dove l'unico posto per nasconderla era sotto il letto. La domanda che viene spontanea fin dall'inizio è come cavolo ha fatto la polizia a non trovare il corpo dopo tre perquisizioni? Come è riuscito Joshua a nascondere il corpo talmente bene da non destare il minimo sospetto per ben sette giorni? Ecco, perché il ragazzo ha trovato in realtà un ottimo posto i letti ad acqua, per chi non lo sapesse, hanno dei telai abbattente che arrivano fino a terra tipo una scatola un contenitore, ecco all'interno ci sono dei supporti per il materasso a forma di X perché i letti ad acqua sono pesantissimi e serve un buon supporto per sostenere tutto il peso Ecco, sopra i supporti a forma di X c'è un pezzo di compensato e sopra il compensato viene messo il materasso Quello che ha fatto Joshua è stato rimuovere uno dei pannelli laterali infilarci dentro Maddy e poi richiuderlo Steven, suo padre, quel giorno è tornato a casa alle 18 circa e l'uomo dirà poi alla polizia che al suo ritorno non ha notato assolutamente nulla di strano né in casa né in Joshua anche perché non c'erano tracce di sangue da nessuna parte quindi molto strano i due anzi si sono seduti tranquillamente sul divano per parlare di come era andata la giornata sì, decisamente inquietante mentre i due parlavano nel soggiorno dal piano di sopra hanno iniziato a provenire alcuni rumori che hanno fatto subito allarmare Joshua forse Maddy stava riprendendo conoscenza e stava cercando di uscire da lì notando che i rumori poi non accennavano a fermarsi il ragazzo si è scusato con il padre dicendogli che aveva dei compiti da finire ed è tornato nella sua stanza ora la situazione diventa ancora più critica Joshua sapeva che si trovava in un punto di non ritorno e nella sua mente ruotava un unico pensiero ovvero sbarazzarsi di questo problema parole sue, tutte cose che ha detto durante gli interrogatori il ragazzo quindi ha estratto dalla tasca un coltellino ha tirato fuori Maddy dal letto e le ha tagliato la gola ma non solo l'ha anche pugnata al petto più volte e con le mani e la faccia piena di sangue Joshua ha rimesso il corpo della piccola Maddy sotto il letto e a questo punto viene spontanea un'altra domanda perché? c'è davvero tutto questo solo perché Joshua aveva paura del padre? ebbene pare che la risposta sia sì Joshua durante gli interrogatori confesserà di averlo fatto solo ed esclusivamente per il terrore che aveva nei confronti di suo padre quindi da una piccola ferita alla testa causata da una palla da baseball da un gioco innocente la cosa è degenerata velocemente fino all'omicidio penso che nella testa di Joshua ci fosse solo il pensiero di fingere che non fosse mai successo nulla perché prima o poi tutti si sarebbero dimenticati di Maddy anche dopo la testimonianza però molte cose non tornano dalle analisi del corpo di Maddy infatti non è risultata alcuna lesione alla testa quella che sarebbe dovuta essere causata dalla palla da baseball tutto ciò che hanno trovato è una ferita da trauma da corpo contundente causata dalla mazza inoltre gli investigatori decidono di esaminare tutte le palle da baseball di Joshua e non trovano nessuna traccia del sangue di Maddy niente il più grande campanello d'allarme per gli investigatori però rimane la questione dei pantaloni e della biancheria intima mancante sul corpo della piccola Joshua aveva affermato di averla trascinata nel cortiere sul retro e questo ha fatto sì che i pantaloni e la biancheria si sfilassero dalle sue gambe la polizia però ha dei dubbi perché sul corpo di Maddy non c'erano segni di terra se davvero Joshua l'avesse trascinata per metri sull'erba e sulla terra un po' di sporco sarebbe dovuto sicuramente esserci nelle gambe e invece niente e sul cortile nel retro non c'erano neanche tracce di un presunto trascinamento l'erba non sembrava appiattita o rovinata e ovviamente pantaloni e biancheria non si trovavano lì ma poi voglio dire il sangue nella camera da letto come ha fatto a pulirlo? perché non c'era e il sangue in casa? non c'era era tutto molto strano perché la sua versione sì aveva senso ma aveva delle lacune non indifferenti non spiegava effettivamente tutto alla fine si è deciso di esaminare ulteriormente il corpo per individuare segni di un presunto abuso sessuale ma anche in questo caso non è stato trovato nulla il che ha portato gli investigatori a concludere che non c'è stato nessun tipo di abuso da parte del ragazzo ma questo quesito ancora oggi è oggetto di dibattito perché appunto ci sono tante cose che non tornano e come vi dicevo com'è possibile che non ci fosse neanche la minima traccia di sangue in casa? se davvero Joshua aveva trascinato Maddy per tutta la casa fino in camera da letto com'è possibile che non abbia lasciato neanche una goccia o anche solo uno schizzo sul pavimento? cioè da qui infatti nascono diverse versioni può essere che Joshua abbia invitato Maddy a entrare in casa siccome lui non poteva uscire e la storia così assume un senso e permette anche di rispondere ad alcune delle domande che sono sorte agli investigatori per esempio chiarirebbe il motivo per cui nessuno ha sentito i pianti e le urla di Maddy lei in realtà era già in casa di Joshua è possibile quindi che lui l'abbia fatta salire in camera e poi l'abbia colpita con la mazza da baseball per poi ucciderla il ragazzo tuttavia rimane fedele alla sua storia e non cambierà mai versione il processo di Joshua inizia il 6 luglio 1999 quando lui ha ormai 15 anni come potete immaginare almeno nei luoghi di interesse questo caso ha assunto una rilevanza mediatica piuttosto ampia all'epoca se ne parlava tantissimo era una storia sulla bocca di tutti e i cittadini chiedevano ovviamente giustizia per la povera bimba uccisa in sostanza la comunità si sentiva molto coinvolta riguardo alla vicenda e il primo problema che è subentrato è che risultava difficile avere una giuria che mantenesse un'opinione imparziale durante il processo Joshua era detestato da tutta la città per quello che aveva fatto la piccola Maddy e quindi si è arrivati alla conclusione che non era possibile tenere il processo a Jacksonville infatti il processo verrà svolto a Bartow, sempre in Florida che è una cittadina decisamente più piccola di Jacksonville infatti controllando su internet ho visto che nel 99 Bartow contava solo 15.000 abitanti nonostante fosse minorenne Joshua viene processato come un adulto e in realtà c'è stato un dibattito anche su questo ma alla fine il giudice Chales W. Arnold ha deciso che il suo gesto l'ha reso a tutti gli effetti processabile come un adulto per cui si è proceduto in questo modo quindi come vi dicevo prima ci sono parecchie cose che non quadrano nella versione di Joshua ed è proprio il compito dell'accusa colmare queste cosiddette lacune in particolar modo il procuratore gioca un ruolo importante perché punta molto sulla vita privata di Joshua per renderlo ancora peggiore tra virgolette agli occhi della gente e della giuria in aula dice che il ragazzo possedeva dei libri sull'occulto e sulla magia nera che nella credenza popolare ovviamente è riconducibile a qualcosa di oscuro e malvagio i pubblici ministeri sapevano che questo avrebbe reso il ragazzo ancora più malvagio agli occhi della giuria soprattutto perché il processo vi ricordo non si è svolto nella metropoli di Jacksonville ma in una piccola cittadina dove certe credenze e preconcetti sono sicuramente più marcati e radicati nella cultura secondo le dichiarazioni di Melissa sua madre Joshua passava molto tempo al computer e analizzando la cronologia si è scoperto che guardava pornografia estremamente violenta Joshua si trovava proprio su uno di questi siti esattamente 30 minuti prima che avvenisse l'omicidio ma cosa ancora più inquietante si è connesso di nuovo subito dopo l'omicidio sicuramente le dinamiche familiari non hanno aiutato pensate a un ragazzo adolescente costretto a rimanere da solo in casa consapevole di avere un padre violento che l'avrebbe punito se avesse disobbedito oltre a questo i computer stavano esplodendo in quell'epoca la tecnologia stava facendo passi da giganti quindi mettete insieme un teenager abbandonato a se stesso è un arnese che ti permette di navigare ovunque tu voglia senza nessun controllo e questo è quello che può accadere non sono uno psicologo ma penso che la visione ripetuta di questi contenuti aggiunto alla solitudine abbiano portato qualcosa di strano nella mente di Joshua qualcosa di molto pericoloso i pubblici ministeri tirano fuori anche altre cose che avrebbero poi portato all'omicidio stesso la casa della famiglia Clifton infatti in quel periodo sembrava quasi infestata perché i membri trovavano spesso dei buchi nei muri e una volta addirittura una finestra rotta come se ci fosse stata un'effrazione dopo l'episodio della finestra poi erano sparite varie cose dalla casa dei Clifton tra cui un telefono cordless e anche una foto di Jesse la sorella maggiore di Maddie dopo l'omicidio quando gli investigatori hanno perquisito a fondo la stanza di Joshua hanno trovato proprio quella foto scomparsa di Jesse quando poi è stata perquisita l'intera abitazione hanno anche trovato il telefono scomparso era stato sepolto nel cortile dei Phillips inoltre quando gli investigatori hanno cominciato a guardare i tabulati telefonici hanno trovato le chiamate fatte da Joshua e hanno così scoperto che aveva accumulato quasi 500 dollari di debiti in chiamate ma chi chiamava questo ragazzo? ecco si trattava di sex calls una sorta di sesso telefonico in cui chiami parli con qualcuno che ti dice cose sconci insomma avete capito gli investigatori quindi hanno scoperto che tutte le chiamate erano state effettuate negli orari in cui Joshua era in casa e in processo vengono anche presentate delle prove che dimostravano che Joshua avesse una sorta di ossessione per Jesse la sorella maggiore di Maddie tenendo a mente tutto ciò vi dico che il suo processo dura solo un giorno e la difesa decide anche di chiamare in aula un neurologo che ha avuto il compito di fare alcuni test sul cervello del ragazzo test grazie ai quali si è scoperto che Joshua aveva una lesione sul lobo frontale del cervello riconducibile ad un danno cerebrale abbastanza importante di cui però non si conoscono i dettagli le conseguenze di una lesione del genere in generale possono causare scarsa regalazione emotiva scarsa capacità di giudizio e forte impulsività in sostanza Joshua non era completamente sano di mente né nella vita di tutti i giorni né quando ha ucciso Maddie il giudice tuttavia non ha permesso che questo dettaglio fosse preso in considerazione in tribunale e non so perché cioè sicuramente una cosa del genere avrebbe dovuto avere una importanza maggiore avrebbe dovuto giocare un ruolo importante al processo ma non è stato così per questo la giuria condanna Joshua per omicidio di primo grado ci sono volute solo due ore per emettere il verdetto di colpevolezza e come sapete per i crimini del genere negli Stati Uniti si parla già di pena di morte ma poiché Joshua aveva meno di 16 anni gli è stato dato l'ergastolo senza possibilità di richiedere la libertà condizionale il giovane quindi viene rinchiuso nel carcere correzionale della contea di Marion a Lowell in Florida quando è entrato in prigione aveva solo 15 anni e col passare del tempo è comunque riuscito a proseguire gli studi seguendo anche alcuni corsi universitari è poi diventato assistente legale in carcere usando la sua formazione per aiutare gli altri prigionieri a preparare i loro ricorsi Joshua quindi non si è abbattuto ha sfruttato e sta sfruttando al massimo ogni opportunità che gli si presenta davanti dopo la sua condanna negli anni successivi insomma la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una sentenza secondo cui i minori non possono ricevere l'ergastolo a meno che non vi siano circostanze eccezionali a seguito di ciò quindi la condanna di Joshua sarebbe dovuta essere rivista siccome era stato condannato da ragazzino bisognava vedere se effettivamente la condanna fosse ancora valida secondo le nuove normative nel 2017 quindi si è svolto un nuovo processo contro di lui processo nel quale il consenso generale voleva che restasse in carcere forse per uno scherzo del destino o per ironia della sorte in aula quel giorno il PM era lo stesso del suo processo originale solo che questa volta parlava a favore di Joshua non contro di lui in sostanza questa volta ha dichiarato che i tempi sono cambiati e che all'epoca nel 99 non c'erano tutte le conoscenze che abbiamo oggi sullo sviluppo del cervello ha quindi proposto di valutare il ragazzo come non capace di intendere di volere al momento del delitto e di conseguenza valutare soluzioni alternative per la sua condanna purtroppo per lui però questo non è bastato per uscire di prigione infatti sta tuttora scontando la sua pena in carcere la sua condanna potrà essere rivista dopo 25 anni da quando è entrato quindi in teoria nel 2024 per il momento però non abbiamo aggiornamenti per quanto riguarda i genitori di Maddy devo dirvi che si sono separati tre anni dopo la sua scomparsa il che è davvero triste cioè un divorzio non è mai qualcosa di bello però dopo una simile tragedia rende tutto ancora più triste invece Stephen Phillips il padre di Joshua è morto poco dopo il processo di suo figlio in un incidente d'auto purtroppo non ci sono molte informazioni al riguardo quindi non posso aggiungere altro diciamo che però non trovo questo incidente particolarmente triste visto il suo modo violento di comportarsi con sua moglie e suo figlio ecco non sono rattristito da questo incidente Melissa invece è andata avanti con la sua vita nel corso della sua vita ha rilasciato anche varie interviste in cui dice che divide il suo tempo tra la sua casa a Jacksonville e il nord della Florida e una cosa che voglio raccontarvi prima di salutarci è che circa dieci anni dopo il processo Melissa si è recata in una chiesa di Jacksonville e mentre era intenta a pregare si è avvicinata a lei una giovane donna bionda che le ha chiesto se fosse la mamma di Joshua Melissa a quel punto ha avuto un tuffo allo stomaco e le ha risposto di sì quasi vergognandosi ma la donna è risposta l'ha abbracciata quella donna era proprio Jesse Clifton la sorella maggiore di Maddy direi che questo è proprio un bel colpo di scena cioè in tutto il marcio di questa storia c'è comunque ancora qualcosa di bello perché Jesse è andato avanti ha capito ha perdonato e sicuramente non ha percorso la strada della vendetta o dell'odio nei confronti dei familiari di Joshua almeno che è una cosa non da poco se ci pensate Jesse poi ha finito per comprare la sua casa di infanzia a Jacksonville e ha rilasciato delle interviste in cui parla di quanto gli anni con Maddy fossero stati i migliori della sua vita Joshua al contempo cerca ancora attivamente di uscire di prigione ma ovviamente i genitori di Maddy si oppongono ancora e fanno presenza ad ogni processo per ricordare quanto crudele fosse stato l'atto compiuto dal ragazzo ancora oggi l'opinione pubblica si divide in due c'è chi dice che all'epoca era solo un ragazzino con una brutta situazione familiare mentre c'è chi ricorda che Maddy purtroppo non avrà mai più una seconda possibilità e nemmeno la sua famiglia quindi come al solito io lo chiedo a voi pensate che il carcere a vita sia una giusta soluzione per Joshua? oppure lo vedete come una vittima che ha perso la testa per ovvie ragioni e che quindi deve essere trattato come tale fatemi sapere qualsiasi cosa pensiate qui sotto intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui ricordo anzi anticipo che prestissimo tornerà il podcast Red Room insieme a Ellie in Crimeland quindi se ancora non l'avete fatto andate a dare un'occhiata insomma al podcast sia su Spotify che qua su YouTube e recuperate le puntate delle scorse stagioni io non vedo l'ora di riprendere anche con quel progetto ovviamente vi ricordo anche di massacrare i pulsanti iscriviti anche su questo canale e di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei e adesso parlo con te sì proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao ciao